Carissimi, rieccoci nuovamente insieme, siamo ospiti della concessionaria Regina, ci troviamo in Corso Francia 138 a Collegno, esattamente in compagnia di Antonello Floridia, qui accanto a me, che dal benvenuto siamo esattamente in casa Kia, quindi il benvenuto parte da casa Kia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ricordiamo subito che cosa significa Torino Kia. Torino Kia rappresenta il marchio Kia, però qui accanto c'è un'altra concessionaria che rappresenta il marchio Toyota, che fa parte di Central Motors e tutto il gruppo comunque è Adi Motors, noi lo ricordiamo. La concessionaria si chiama Regina, però è praticamente facente parte del gruppo Adi Motors, che è un grande gruppo di Torino. Ci troviamo a Collegno in Corso Francia 138, siamo ospiti dello splendido showroom di Kia, dove tutta la gamma vi attende, comprese le novità, le ultimissime, la nuovissima Soul, tanto attesa, in presentazione qui da voi questo weekend. Esatto, 12-13 sabato e domenica presentiamo la nuova Kia Soul, quindi venite a vederla, a provarla, che è veramente molto bella. In più vi dico che per quanto riguarda il marchio Kia partiamo dalla Picanto fino ad arrivare alla Sorento, quindi copriamo tutto il brand possibile, possibilità di avere benzina, diesel e GPL. La cosa molto importante di questo marchio sono i sette anni di garanzia, sette anni di garanzia dove si estendono anche sul GPL, l'unico marchio in questo momento che può permettersi sette anni di garanzia. Infatti già, sette anni sono una bella cosa, insomma sinonimo di affidabilità per quanto riguarda un prodotto comunque che vale, che ha dei prezzi competitivi sul mercato. Ottimo rapporto qualità-prezzo, non solo per quanto riguarda tutta la gamma Kia che io vi invito a venire a scoprire, a vedere qui in Corso Francia 138, ma anche per ciò che riguarda comunque il mondo delle occasioni e so che avete un vasto parco di vetture selezionate, certificate, garantite. Ce n'è davvero per tutti i gusti, non solo del marchio Kia ma anche di tanti altri marchi. Certo, noi siamo anche concessionari Toyota dove abbiamo tutta la gamma ibrida che è comunque l'eccellenza in questo momento per quanto riguarda l'ecologia. Abbiamo la possibilità di offrirvi dei chilometri zero per quanto riguarda il marchio Nissan per quanto riguarda la Subaru, Mitsubishi e poi per quanto riguarda tutto l'usato abbiamo dell'usato veramente molto bello. Vetture aziendali, chilometri zero, quindi tanto risparmio del prezzo di listino. Infatti, tanto risparmio, la possibilità di avere dei finanziamenti fino a 84 mesi, cosa molto importante specialmente nel marchio Kia con i 7 anni di garanzia abbiamo la possibilità di fare dei finanziamenti di 7 anni dove dentro mettiamo tutto quello che è possibile per quanto riguarda tagliandi, grandine, furti, incendi eccetera, collisione per eventuali sinistri e si ha una rata distribuita, quindi si ha una rata sicura mensile che è una cosa molto importante nelle famiglie, avere la certezza della rata. Esattamente, prezzi facili, comodi pagamenti, finanziamenti agevolati, tanti servizi. Ma le sorprese non finiscono qui, sapete che vi dico, noi ci trasferiamo da Kia in Toyota, seguiteci. E ci siamo trasferiti nel salotto di casa Toyota, ebbene sì, la cordialità devo dire che è di casa da queste parti, sia per quanto riguarda Kia che per quanto riguarda Toyota. Come vedete, sono stata benevolmente accolta anche qui da Antonello in un salottino, nell'angolo dedicato al caffè, perché il cliente si accoglie così qui da voi, a partire da un caffè. Le prime parole sono, si spendono con un caffè, poi comunque lo si invita a conoscere meglio la gamma del prodotto. In questo caso parliamo di Toyota. Certo, parliamo di Toyota, di Toyota è essenziale parlare del modello ibrido, dove nelle ibride, dove Toyota conta molto, abbiamo la Yaris, l'Auris, la Touring Sport Auris e le Prius. Per quanto riguarda queste vetture qui, hanno il motore elettrico e benzina che interagisce fra di loro, però venite a trovarci, così abbiamo la possibilità di spiegarvi bene il funzionamento e tutti i vantaggi che ci sono. Oltre 4.000 euro di sconto sulla gamma del ibrido, più tutto il resto del prodotto, dalla piccola iGo al RAV e tutto quanto altro c'è di disponibile. Ottime possibilità di scelta, quindi ottime possibilità di acquisto, anche qui nessun problema per quanto riguarda i finanziamenti. Assolutamente, qui abbiamo dei finanziamenti, abbiamo il valore Toyota, dove abbiamo la possibilità di garantirvi il riacquisto della vettura, abbiamo la possibilità di fare dai 24 a 36, 48 caroni, dove vi garantiamo il riacquisto con una valore certo. Anche qui possiamo coprire la rata con tutti i servizi, in modo che avete una rata certa per tutto il periodo senza ulteriori sborsi. Questo è sinonimo di garanzia, naturalmente di professionalità e di affidabilità. Affidabilità per un prodotto che vale, un prodotto che è presente sul mercato e che è richiestissimo peraltro in questo periodo. Vi invitiamo quindi a venirlo a scoprire personalmente in questo splendido showroom che si trova a Collegno in Corso Francia 138. Per i saluti finali ci siamo trasferiti nel showroom di Kia Torino 1, dove vi ricordiamo l'indirizzo Corso Francia 138 a Collegno, siamo sempre qui, facilmente raggiungibili. Lo ricordiamo, puntualizziamo la sede. Certo, siamo in Corso Francia 138 a Collegno, verso Torino poco prima del cavalcavia, all'uscita della tangenziale Corso Francia e siamo qui per voi. Abbiamo da farvi vedere tutta la gamma Kia, Toyota, chilometri zero per quanto riguarda Nissan, per quanto riguarda Mitsubishi, per quanto riguarda Subaru, più tutto l'usato veramente molto molto bello. Vi ricordo i finanziamenti dove possiamo inserire tutti i servizi all'interno, quindi avrete una piccola rata da poter gestire con molta comodità. Insomma, il mondo dell'auto a 360 gradi, Antonello Floridi è qui accanto a me, ma qui è presente anche il suo team, venite a trovarlo in Corso Francia 138 a Collegno e sono sicura che non vi deluderà. Affidabilità, cortesia e come vi ho detto prima, in apertura, tanta cortialità. Parte tutto da un caffè, alla prossima. Grazie!